Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su FIFA 21 con il nostro MK Dance, con la carriera allenatore estrema. Quest'oggi andremo ad affrontare il Bristol. Dopo il pareggio della scorsa partita che ci ha fatto capire che possiamo competere a questa difficoltà e che non dobbiamo farci tiraggio di morale, è ora di fare cose. Allora, c'è Hoffman che è un po' stanco innanzitutto, chi possiamo mettere a posto di Hoffman? Bella domanda, allora no? Potremmo mettere Haggard, quasi quasi, non sarebbe male. Poi possiamo mettere in panchina Takkar che è da un po' che non gioca, lo devo ammettere, un po' mi dispiace. Walker per Dellev, no? Walker secondo tempo, magari per Alvi qua. E Gonzales che sta giocando molto bene perché è lasciato in panchina. Mettiamolo titolare. A posto di un Tid che non è che mi abbia entusiasmato più di tanto. E per il resto la squadra sta bene, è tutto in forma. Possiamo andare a giocare a sta partita. In cui dovremo stare molto attenti e dovremo cercare di portare a casa finalmente i tre punti. Si inizia. Allora, ho letto che hanno aggiornato il gioco. Quindi il gameplay sicuramente è peggiorato, fantastico. Spero di no, ma vedendo le ultime volte direi sì. Dai ragazzi, no, è in fuorigioco. Ma come? Com'è possibile che fosse in fuorigioco, scusate? Bravo Sorensen. Vabbè, palla fuori. Però Paul era veramente fuori posizione di tantissimo. Delev, Fraser, Agard, per Schumann, Agard. No. Un calma, ragazzi. Esci, esci, palla a piede. Raga. Calma. Portiere, devi uscire. Cioè, di base, un portiere esce ogni tanto dalla porta. Vabbè. Walker. Walker. Per Agard. Agard, bravo. Oh, niente. Porca miseria. Bravissimo. Partiamo? Vabbè, si è bianciatissima la squadra avversaria. Occhio al suo movimento. Mamma mia, però. Fraser. Tu che sei top player della squadra, quasi. Mi fai queste cose. Mi fai crescere la depressione che c'è in me. Può avanzare a spazio. Paul, Paul, Paul. Paul. La metti in mezzo con questo pallone. No, ragazzi, no, 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 no. Beh, come hai fatto a farti anticipare in questa maniera? Scusa, che ho? Come hai fatto? Vabbè, il portiere è comunque inguardabile qui, eh. Cioè, se il portiere è stata ferma, la prendeva. No, invece, c'è tuffato e non l'ha presa. Io non ho parole. Non ho parole. Non ho veramente parole. Gonzales. Bravo, Gonzales. Dai, Fraser. Paul. Agard, prova a partire, ma purtroppo non riusciamo. No. Mamma mia. Mamma mia, il portiere. Mamma mia, il portiere è sul suo palo. Mamma mia, il portiere è sul suo palo. Mamma mia. Mamma mia, che... Che roba imbarazzante. Non facile, per quanto si è visto finora. Che roba imbarazzante. Conteggio che è cambiato, ora conducono per due reti a zero. Dunque, ragazzi, non so, un giorno il gioco è tipo difficilissimo, un giorno è facile. Io non capisco questo senso. Dai. Ci sono novità. Con calma. I padroni di casa hanno ottenuto un calcio di rigore. Il tentativo di trasformazione non è andato a buon fine. Ha tentato la botta sotto la traversa. Ha esagerato con... Agard. Niente. Noi, mai una gioia. Mai una gioia. Sono sempre lì a pressà, come dei furetti a satanati. Che off. Prova ad aprire il campo in ampiezza. Lettura perfetta e palla recuperata. Gonzalez. Sorensen. Occhio all'avanzata. Agard. Lo vede. Agard. Guarda, guarda. Guarda che ha parato il portiere avversario. Guarda che robe. So deve fare il mio. Purtroppo se mi rinuncela. Gonzalez. Gonzalez. Niente. I portieri avversari parano sul loro palo. Il mio no. Surman. Paul. Intervento provvidenziale del difensore. Mamma mia, ripartenza. Occhio al contropiede. Con calma. No c'è un buchi. Eh, oh ragazzi, tornate. Da lì può crossare. Ragazzi, dobbiamo tornare. Posizione ideale. Se no qua è un problema. Cioè. Che rilancio a lungo. Un peccato a lungo che è scattato troppo inattissimo. L'arbitro l'offerano. Ok. Mi ero un attimo preoccupato che fosse rigore. Mi ero anticipato troppo. Doveva aspettare. Surman. Brian. Brian. No, Brian. Agard. Agard. Mamma mia, Agard. Mamma mia, Agard. Nemmeno il calcio d'angolo, Agard. Nemmeno il calcio d'angolo. Porca miseria, che dentezza. Ma questa squadra, boh, io non capisco. Vedi momenti che va in palla. Momenti che sembra nata squadra. L'hai visto? Fraser? Niente. Perché? Il suo pare è il mio no. Aiuto. Sorensen. Surman? Niente. Un portiere aggiunto. Fraser? Sorensen? Delev? Agard? Entra in modo perfetto. C'è spazio per la ripartenza. C'è campo per andare. Vabbè. Io Agard lo devo. Io Agard lo devo perché è veramente qualcosa di inguardabile. non sa giocare. Cioè, non... È disarmante la sua dentezza. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto ruolo. Brian? 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 Niente, io non riesco mai a partire un tiro pulito. Sono tutti sporchi i miei tiri. Sono tutti sporchi. Con calma, con calma ragazzi, con calma. Non bisogna perdere la testa. Il primo anno sarà un po' di transizione perché devo imparare bene a giocare. Ma dobbiamo solamente pensare positivo. Aluru. Aluru. Ho letto Kasumo e ho letto Aluru. Perfetto. Walker. Oggi Delev lo vedo un po' così. Dakar per Gonzalez. No, 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 no. Yukton per Sorensen. E proviamo così. Proviamoci ragazzi, proviamoci. Abbiamo buone capacità di recuperare la sua partita. Comunque le occasioni le abbiamo avute. Cioè, a parte un po' di... Il primo tempo del Bristol. Noi abbiamo dominato la partita, eh. Bisogna essere oggettivi a volte. Abbiamo avuto quel blackout di 10 minuti. Abbiamo preso due gol. Poi ci siamo rimessi a lavorare. Bravo Gonzalez. Vabbè, io... Sto passaggio un giorno ve lo spiegherai Gonzalez. Grazie. Perché è veramente un passaggio così. Comunque... Ha dei passaggi giocatori in suo gioco schifosi. Vai ragazzi. Ho cercato, voluto, trovato per rinforzare la rosa in un settore che evidentemente andava puntellato. Può avvicinarsi alla porta. Grande intervento del difensore. No, no. Ma come si gioca? Siamo ad essere a ping pong. Su. Usciamo? Walker. Walker. No, era bella la palla. Era bella, era bella, era bella. Occhio perché... Dai, calcio d'angolo. Newton. La classe in mezzo a cercare la testa del compagno. Niente, oh. No, peccato, peccato. Dai, ci siamo, ci siamo ragazzi. Andiamo in offensivo. Cargill. Couton. Hoffman. Brian. Brian proprio a Oslado. No. Non li riesce. Gonzales. Hoffman. Dai, Walker. Non so perché sei lì, ma devi più corti. Dai, vabbè, Walker. Buonanotte. Notte, Walker. Buon pisolino, eh. Outon. Paul. Sì! Sì! Il pallone finisce. 1-0. 1-0. Buonanotte. Ma che sto di... Stai impazzire. 1-2. 1-2. Ma che è, Brian? È Brian. Brian Gonzales. Oh, come questo giocatore? È arrivato in sordina. Come fosse stato un acquisto casuale. Sta fa il fuoco, eh. Rispetto agli altri, eh. Non vorrei dire, ma... È un bel prospetto, se... Questo qui, eh. Brian. Stanno sbagliando poco. Fraser. Paul. 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 Spazio per andare. Brian. Brian. Shurman. Vabbè, ragazzi. 2-2. Ragazzi, 2-2. Shurman. Mamma mia, con Brian. Che coppia. Brian assist. Goal e assist di Brian. Ma chi è questo? Ma chi è questo? Pazzesco. Pazzesco. Ora stiamo in offensiva. Stanno giocando benissimo. Cos'è? Cambio, sono pazzo. Noi su 3-2 mettiamo il di Browden nel caso. Che lo facciamo, però. Hoffman. Brian. Oh. Ma che sta succedendo? No, Hilton, però. No. 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 No, aiuto. No, aiuto. Non perdere questi pallori. No, ragazzi. No, 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 no. Che off. Me lo sono perso io, ragazzi. Lo ammetto, me lo sono perso io. Sono un pirla. Poi mi galvanizzo e poi mi perdo. È sempre così in tutti i giochi. Non sono una roba assurda. No, no, no. Schurman. C'è l'errore? Palla recuperata? Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Bravo, Keough. Bravo, Keough. Sarà un pallo laterale. Può metterla in aria. Buona qui la lettura del difensore. Uno, due col compagno. Posizione ideale. No. Bravo, Keough. Il pallo laterale viene intercettato. Dai, ragazzi. Qui possiamo riapprezzare davvero al meglio. Possiamo fare il 3-3, almeno. Il gol ti ha dato il vantaggio. Mi dà un segnale. Ammite in mezzo. Frazer. No. Ragazzi, quello che lo marca. Quello che lo marca, ragazzi. Quello che lo marca. Quello che lo marca. Tutti fuori luogo. Tutti. Non c'è nessuno. Tutti che fanno il fuorigioco con la mano. Ma che cazzo fate fuorigioco con la mano? Ragazzi, vai. Su. No, comunque è tremendo. Questa squadra è tremenda. Mi dà su di sostegno, mi dà molte cose negative anche. Brian. Newton. Servire a profondo il compagno. Paul. Per Brian. Nulla la fa. Brian, è ancora lì la palla. Brian, dai su. Niente, Brian. Purtroppo non riesce a fare nulla di buono. Bravo Paul. E vabbè. Ultra offensivo. Si va allo sbaraglio. O tutto o niente. Lo vede? Se ne può andare adesso. Recupera un pallone pericoloso qui. No. Occasione d'oro. Riesce a rispondere stavolta. Una volta che pare il portiere perché la sparano in faccia. Sennò non avrebbe mai parato. Oh oh oh. Dai, dai. 180 secondi. Questa è l'entità del recupero. No, pure loro. Davis. Dai. Sulman. Pallone importante per provare a aprire la gara. Vai il gol. Vai il gol di Hoffman, vero? No, Fraser. Però ormai è finita. Ormai, purtroppo, ragazzi, è finita. 3-4. Oh, comunque, stiamo giocata, eh. Gli spettatori neutrali si stiano godendo questa partita. Tanti conti. Non si può dire che abbiamo giocato male, in realtà. Non c'è più tempo per i padroni di casa. Abbiamo giocato molto bene. Abbiamo giocato molto bene. L'abbiamo combattuta sta partita. L'abbiamo combattuta. 12-8. Comunque, sono contento della squadra. Sono contento. Dovamo ancora crescere e lavorare, ma sono contento della squadra. Ora il prossimo passo è migliorare in difesa. Con due acquisti, non vi innesti. E in primis migliorare anche io. Comunque. Meritavano di più. Per una volta. Posso dirlo. Ufficialmente. Il nostro morale è alto. Su. È solo l'inizio, ragazzi. È solamente l'inizio. Si può fare molto, molto di più. Allora. Agard ha raggiunto... Vabbè, sta 30 anni. Dovrà fare equilibrato. Per mantenere... Non può più crescere ormai Agard. È arrivato. Purtroppo è arrivato Agard. Purtroppo è arrivato. La prossima volta... Parte dall'allenamento settimanale. Siamo a ventunesimi, comunque. Veramente. Insomma, un po' un casino. Non stiamo andando benissimo. Potremmo andare meglio. Molto meglio. La prossima volta. Siamo a controllo di Doncaster. Che sta a quattordicesimo. Si può fare. Si può fare. Andiamo un po' ai resoconti. Flying Downness. Downness. Dove è finito? Allora... Non è male, eh. Questo 21enne. Non è affatto male. Poi... Luke... Vediamo un po'. Centrale. 21 anni. Non mi sembra sto Grand Car. Sinceramente. Elvis... Elvis... Bono... Bono... Bonomo... Come si chiama questo? Come si pronuncia? Wow, questa è una scheggia, oh. Un po' di scadenza. Prendi, prendi. Mettilo nei preferiti. Posso servirci. Antoine Semenio. Questo non sembra fatto male. Poi c'è... Markurse Force. Attaccante. Che non mi piace. Luke Matheson. Può crescere. Teniamolo d'occhio. Poi c'è... Harry Elliot. Quello lì. 68. Questo è molto intrigante. È molto intrigante. Peccato che sia tipo in prestito. Quindi non si possa comprare. Leif Davis. Eh. Non male, non male. Tommy Doyle. Tommy Doyle. Sì. Non è il massimo. T- Tyrese Dolan. Interessante. No, ce l'ho già. Ok. Allora. A pasto... A pasto... Diciamo... Cavando queste cose, insomma. Ehm... Ragazzi giovani che possono essere di vital importanza per il nostro futuro. Sempre se duriamo tanto qua perché... Mi sa che tra poco ci cacciano. No, spero io no però. Insomma, se non diamo un po' di... No, non volevo fare questa cosa io. Se non diamo un po' di risposte qua diventa complicato. Allora. Noi dobbiamo migliorare assolutamente nei terzini. Anche. Perché comunque Paul... Poi quanti anni ha? Perché non me lo dice? Non ci fa vedere quanti anni ha Paul. Ah, da andare giù. Beh, giovane Paul, eh. Poi c'è Paul e Sorinola che può fare il TD. Però Sorinola è un pacco, sinceramente. Mene TS, Danquilibali e Herbie. Pure Herbie molto giovane. Allora. Bisogna fare cose con molta discrezione. Abbiamo un TS come Davis. Molto veloce. Mateson che è molto giovane. Poi questo qui che comunque è una scheggia. Se noi facessimo una cosa. No. Proviamo ad acquistarlo. E diamo un terzino destro. Come Sorinola che sarebbe alla fine adattato. Più magari, non so... Non abbiamo niente. Che sto facendo io? Non abbiamo i soldi. Non ci abbiamo i soldi, ragazzi. Vabbè. Facciamo offerta a 0 euro. 20.000 euro, dai. Ecco. Non abbiamo i soldi, raga. Ne ero scordato. Ne ero scordato. Niente. Allora. Che dire. Ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.